Non ignoriamo o rattristiamo lo Spirito Santo, ma apriamoci alla sua forza nella preghiera, lasciamo ogni paura e facciamoci trascinare dal vento dello Spirito per andare avanti. Così Papa Francesco, nell'Omelia della Messa del Mattino, celebrata a casa Santa Marta, commentando le letture del giorno dedicate allo Spirito Santo, grande dono del Padre e forza che fa uscire la Chiesa con coraggio perché arrivi alla fine del mondo. Non possiamo ridurre tutto alla legge, come i Galati rimproverati da San Paolo nella sua lettera, che chiusi nelle prescrizioni ignoravano lo Spirito. La rivelazione di Dio dobbiamo trovarla in cammino ogni giorno e non rattristare lo Spirito rimanendo tiepidi e non lasciando che Lui ci ispiri. Ma ci possiamo domandare oggi, in un momento della giornata, io ignoro lo Spirito Santo e so che se vado a Messa alle domeniche, se faccio questo, se faccio questo, è sufficiente? Secondo, la mia vita è una vita a metà tiepida, che rattrista lo Spirito Santo e non lascia in me la forza di andare avanti, di aprire. O, finalmente, la mia vita è una preghiera continua per aprirsi allo Spirito Santo, perché Lui mi porti avanti con la gioia del Vangelo e mi faccia capire la dottrina di Gesù, la vera dottrina, quella che non incanta, quella che non ci fa stolti, ma la vera, e ci faccia capire dove c'è la nostra debolezza, quella che rattrista Lui e ci porti avanti, portando avanti anche il nome di Gesù agli altri, insegnando la strada della salvezza. Che il Signore ci dia questa grazia. a aprirci allo Spirito Santo per non diventare stolti, incantati, né uomini e donne che rattristano lo Spirito.